Vabbè, io voglio andare a tagliare tutte le cose che non vanno. Allora. Allora. Ehi, pesce! Senta su. Vai, ah! È nato Gesù, in braccio a Maria, suo dito, un bambino. Hanno i suoi occhi un cielo sottino. Hanno i capelli la luce delle stelle. Hanno i suoi cuore le cose più belle. Giuseppe lo guarda con tenerezza. Maria lo culla e lo accarezza. Arriva un pastore per salutarlo. Arriva un bambino e vuole baciarlo. Poi giungono ancora famiglie festanti. Essi avvicinano lì e i passanti. Alleluia è nato il Salvatore. Ecco fra noi il nostro Signore. Brava! Grazie! 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 Grazie!